A Calta Girone un gruppo di persone affette da sclerosi multipla hanno potuto provare l'ebbrezza del volo con il paracadute. Lucia Basso. Saltare giù dall'aereo per provare l'emozione di fluttuare nell'area con la leggerezza di una farfalla. Un'esperienza emozionante per 15 persone con la sclerosi multipla nel cielo di Calta Girone. Lanciarsi col paracadute è stato possibile grazie ad un'imbragatura speciale che ha consentito loro di rimanere legati all'istruttore durante tutte le fasi. Per Ivan Messina è stato un mix di adrenalina, eccitazione e divertimento. Se è vero che si vede di emozioni, questa è la numero uno. È stato un sogno che si è realizzato anche per Andola Martino. Io sono con queste stampelle e lo stato ovvio delle cose dice che io oggi faccio fatica a camminare, che non riesco più a correre e allora io ho deciso che voglio volare e oggi grazie agli amici dell'Aism di Catania io riesco a coronare questo mio sogno. La sclerosi multipla che a volte ti toglie l'aria e quindi diciamo che questa è un'attività che sicuramente ci darà quell'energia, ci fa riempire i polmoni di aria per poter vivere pienamente la vita oltre la sclerosi multipla. La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Catania in collaborazione con l'Associazione Sunflyers.